1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ci uniamo le braccia, apro, apro in diagonale qui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop, apro, questa volta incrociando avanti, ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, gli ultimi, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, da qui, apro, apro, solo da una parte, sulle braccia, 1, 2, 3, 4, con un piego è però, 5, 6, 7, 8, e ancora 8, piego, 7, piego, 6, qui, 5, qui, 4, qui, 3, qui, 2, qui, 1, cambio, questa volta su in alto le braccia, passando da un'alzata frontale, 1, qui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ci siamo scaldati, velocissimi, bene, prendiamo subito un pesetto che può essere da 2, qui le braccia, in alto, lato, scendo, twist, su, lato, qui, scendo, twist, qui, o, qui, 2, su in alto, 3, 4, 4, twist, 5, 6, 7, 8, giù, incrocio, 8, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 4, 4, 3, 2, 1 e qui, ora dobbiamo parte opposta, quindi incrocio qui, scendo e ok, da qui 2, scendo, 2, 3, 4, 5, 6, giù, incrocio e 7, incrocio, su, 8, incrocio e qui, ancora 8, come va? 7, 6, 5, incrocio, qui, 4, incrocio, 3, qui, incrocio, 2, e 1, bene, ci siamo scaldati definitivamente, voi che dite? Bene, ora, da qui, peso, swing, mi giro, swing, swing, mi giro, swing, ok? Possiamo farcela, sì, allora da qui, 1, su, qui, su, 2, qui, mi giro, 3, mi giro, 4, mi giro, 5, qui, qui, 6, qui, 7, qui, 8, mi giro, 8, qui, 7, qui, 6, qui, alla fine diventa divertente, 5, qui, 4, qui, 3, e 2, oh no, ne facciamo un altro giro perché li ho contati tutti, eh, 1, qui, 2, 5, 3, 4, 5, 6, 7, l'ultimo, 8, e ok? Bene, bene, ora, prendiamo sempre questo pesetto, va bene, una mano, sempre da due, da qui, scendo, skip, stendo, 1, qui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Ancora 8, perché ne ho sbagliato 1, su, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 5, 4, 3, 2, e 1, simpatico, eh, insomma, piano piano, allora, scendo, skip, stendo, qui, scendo, skip, stendo, 2, qui, qui, su, e 3, skip, su, 4, qui, 5, 6, 7, 8, e ancora 8, 7, 7, 8, 8, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 8, 8, 9, 10, Cinque, quattro, tre, due, l'ultimo, uno, tutto bene? Benissimo, ed ora dobbiamo prendere due pesetti pesanti, ma li mettiamo semplicemente appoggiati a terra. E due pesetti. Mettiamo sui talloni, sopra i pesetti. Ok, allora poi vedete se prendere un peso o due, va bene anche un peso, da qui. Quindi, un, su, due, tre, quattro, ricordatevi il peso indietro, è cinque, sei, sette, otto, e ancora. Otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, e uno. Ed ora, qui, un, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, ancora, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, sentite i glutei. Allarghiamo un pochettino di più lo squat. D'accordo, ora, da qui, uno, passo, passo, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, ancora, otto, Uno, sette, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, e uno. Un, su, su, due, tre, tutto bene, quattro, cinque, allora non va bene, sei, sette, otto, ancora. Otto, sette, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, e andiamo ancora di molleggi. Un, su, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, e piccoli stacchi. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, stacchi completi. Un, su, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, gli ultimi otto, otto, sette, sei, sette, cinque, quattro, tre, due, e uno. Piego, respiro, e pian piano salgo, giro le spalle, giù, ancora uno, su, e fuori tutto giù. Oh 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 Grazie.